Iscriviti al canale! Ci sono tanti motivi Non esiste altro streamer lì fuori di Budi Lo dicevo anche quello là Non so Potrebbe essere Ma io qua potrei fare Una cazzata vero Roll, roll, roll Dai devo provarci Scusatemi se io faccio Quattro roll il prossimo turn Mentre il turno 3 non posso Cioè devo prendere il turno 3 Ecco delle nuove reclute Daranno la tua squadra un top No se io ne faccio una adesso Dopo ne devo fare Quella recluta ti darà una tripla Eh non posso prenderlo Perché ho bisogno di prenderlo Il mio lavoro qui è terminato Buona fortuna Eh 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 io Quindi non devo fare 5 roll Se no non posso Non posso giocare i miei shifter a Zeus Scusate Eh Ho trovato i servitori migliori Per combattere al tuo fianco Prendi uno di quei servitori Per la tua squadra Prendi uno di quei servitori Per la tua squadra Che festa Ed Ed Ah La battita È in saccoccia È vinta no? Buona fortuna là fuori Io credo in te Una nuova quest Vediamo Quella battaglia Che hai capito? Hai capito? Secondo me potrebbe essere un'idea che il gioco ti dicessi a turno 1 quali quest e a turno 3 in modo da poterci un minimo ragionare e girarci a turno Non sono d'accordo in sopraffetto Perfetto O almeno un info Un qualcosa Non so se prendere il geomante Potrei prendere il geomante del righetto per attivare la quest Peccato non avere elementari Però forse lo faccio Perfetto Più grossi sono Più rumore fanno Quando cazzo Tu la buona fortuna là fuori, io credo in te non mi ha attivato da questo, e che diamine mamma mia, c'è anche il doppio salemental, io faccio anche la quest, aspettate siamo onesti, quanto mancava Zeus, tantissimo l'ho sempre detto, il primo giorno, quando l'hanno tolto, ho detto, è una cavolata, togli a Zeus questo mi incontra e faccio due tene anti guy, pazzesco mi incontra un tene 5 vedi cosa succede quando ti vesti per l'occasione oh mio dio, come faccio a triflarlo che non muogeva mai oh la la ma qua devo trovare gli elementali, perché devo fare l'altra quest 1, 2, 3, 4, ma che cosa gli faccio, è un po' triste l'elementale ma con lui, lui basta che la corruzione si diffonda ah, beh, siete ancora in vita? sei in arrestabile basta, non so dobbiamo anche morire un tene anti guy dammi una gioia, triplo tiplo, 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 tu non sei incredibile riesco a vendere sei? eh, il primo è che qualcosa lo vende o vendo il detonatore o vendo questo se me lo vende il detonatore qua perché così guy si baffa un po' che schifo farei lui 15-15 un po' di amarezza qua ah 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 hai fatto cose sorprendenti la fuori pista eh l'ho ovvio si va a sei il mio mecenate non sfrutto il fatto di andare a sei qua non sfrutto il fatto di andare a sei qua triplo uter triplo uter lo puoi portare un pezzo 30-30, vero? per la giustizia ma si attiva prima Squirtacus o Pistrello? è entrato prima Pistrello è entrato prima Squirtacus quindi si dovrebbe attivare prima Squirtacus sa che puoi vincere Eh qua si perde, vabbè Speriamo di non subire te, oppo se usciressi quel Beontuiden di là Va bene, è molto pistello però, per ultimo Eh si, potrei baffare pistello 30-30 Potrei fare un ciclone 30-30 Sto un giorno mi si avvia Ci sono delle nuove reclute promettenti, non lasciartele sfuggire Quello ha un cuore puro, si capisce Continua così, i tuoi servitori dipendono da te Ok Eh lo so, non sto giocando elementali Che Golden Guy fa schifo Questo è il problema che posso leggere Hai fatto cose sorprendenti là fuori Questo è il Baluarido Credo serve un ciuspolo, vero? Mi basta, mi baffagare ma Non so se lo voglio Beh, grazie Barreddo Maggiore di Utel Ci sta Potrei prendere Agrem Profeta, Agrem Faccio un po' di giri-giri C'è anche Anziano, Agrem Ma secondo me io scalo già abbastanza così E l'Elementare di Eval potrevo prenderlo C'è anche un bel signore del tè qua Sto pensando se prendere Va a fare un pisterelo La nobiltà di quel servitore è palpabile Ti meriti di meglio Ecco Guardate quanti no tag, che belli Chiudo di Mantic Queen Il problema qua è È che io dovrei togliere uno degli elementari adesso Come la mettiamo? Come la mettiamo qua? Vedi i trade buddy Porco cane Mamma Ha rischiato, eh? Si attacco di là il pareggio Leviamo ciclone perché gare più meme Potrebbe essere un'idea Quella battaglia è andata alla grande La nobiltà di quel servitore è palpabile Ci tocca salutare È stato bello, tenente Ti meriti di meglio Ecco Prendi una moneta Ti farò Un buon prezzo Quello ha un cuore puro Se capisce No dai Non ci si può ribellare Cioè che partita sto facendo Il mio viaggio inizia qui Non ho paura di nulla Bellissima Scusami Partita incredibile Questa Gare triplo In tu signore del tè Con un paio di pisterelli Why not? Questa è esoticità vera Ed è orata Veinticami Che E' esoticità vera Il mio viaggio inizia Il mio viaggio inizia È un mio viaggio inizia Non c'è Il mio viaggio inizia queen. Se non mi spacca questo, gli mi dà Munted Queen. Ah, ma lui ha il bastone della creazione. Il mio viaggio inizia qui. Vuoi vedere qualcosa? Che figo. Ho qui la tua ordinazione. Con cosa chiudo? Con questa coile? Non è male. Prendetevo il respiro. Non giocare così bene che altrimenti il Signore del Teo è sempre affoite. Oh minchia, è quello? Doviamo fare l'aericolo? Oh schioppo quello. Doviamo fare l'aericolo. Non ce la fa. 122, 225. Non preoccuparti, la prossima volta ce la farei. La prossima volta. La prossima volta. Non c'è un'ınc Yongon. Per la giustizia Beh, stiamo così? Non dovrei avere problemi, no? Sa che puoi vincere E' una English board la mia E' una English board Ma no, non ho cercato il trade Mannaggia Ho rischiato di nuovo, incredibile E' una luce 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 Mi piacciono di nuovo E' una luce E' una luce E' una luce E' una luce In un giro Questa è una luce E' una luce E' una luce Il posizionamento non è corretto così, devo mettere il primo pistole così. Odio oscuro. Ecco delle nuove reclute, daranno alla tua squadra un tocco di magia in più. Praticare. Ci sono delle nuove reclute promettenti. Non lasciartele sfuggire. C'è già lui. C'è già lui. Noi! E tutti. E polluere il corso del piede. Continua così, i tuoi servitori difendono da te! ecco che hanno dato tanto a livello ma ha fatto dare tanto a livello vabbè però minchia minchia vabbè è stato tosto sto partita volevo vincerla sì è meglio chiudere di self se non l'avevo fatta a te ti ha mezzo copiato il nome va bene dai va bene va bene va bene va bene dai mi ha chiuso la seconda posta sto bravo grazie